Per la prima volta in Italia, una cooperativa per la gestione di beni confiscati alla mafia dichiara fallimento. Accade a Terre di Puglia Libera Terra, fondata a Mesagne nel 2008, in seno al progetto che l'Associazione Libera di Don Luigi Ciotti promuove nel mezzogiorno d'Italia. All'origine del fallimento, un inspiegabile buco di oltre 800.000 euro nei bilanci, con impossibilità di pagare i fornitori e i dipendenti e la successiva messa in liquidazione. La cooperativa gestiva alcuni beni simbolo confiscati alla Sacra Corona Unita in provincia di Brindisi, primo fra tutti la masseria Canali di Mesagne, appartenuta a uno dei capi storici dell'organizzazione Carlo Cantanna, e poi un vigneto alla periferia di Torchierolo, confiscato a Tonino Screti, cassiere della Sacra Corona Unita negli anni 90 e che doveva dare vita alla cantina della legalità, di fatto inattiva da anni. Altri terreni si trovano a Oria e Fasano. Una parte degli introiti della cooperativa proveniva proprio dalla lavorazione della terra e dalla vendita dei prodotti biologici, gli altri dalle convenzioni sottoscritte con gli enti. Qualcosa però negli ultimi anni è andato storto. Tra i primi ad accorgersene è stato il sindaco di Torchierolo, Elio Ciccarese, che al momento di rinnovare la convenzione si è accorto che il raccolto era rimasto sui rami e ha chiesto spiegazioni senza ricevere risposta. Il prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale, ha convocato un tavolo al quale parteciperanno i sindaci dei comuni interessati e i vertici di Libera. Parallelamente si sta cercando di appurare le cause ed eventuali responsabilità di un buco economico di tali dimensioni e per il quale tutti i dipendenti saranno licenziati.